Il tema che affronteremo in questo appuntamento di queste manifestazioni è un tema abbastanza problematico ed enigmatico direi, ma rientra sostanzialmente all'interno del percorso che questo momento di riflessione è stato posto a Rossano, ma in via telematica su tutti i canali internet. E credo che sia un tema, come dicevo, problematico, ma nello stesso tempo enigmatico perché può toccare, vedete, può toccare sia la filosofia, sia la letteratura, sia la fisica, può toccare tutti quei rami dello scivile che entrano in un processo che non è soltanto un processo culturale tucurro, ma è un processo prettamente esistenziale. E qual è il tema? Il tema è la luce e la parola, l'ombra e la parola, il rapporto tra la parola e le ombre, o la parola e l'ombra, all'interno chiaramente di una visione che è quella della penombre e della luce. Possono sembrare temi astratti, temi in cui il senso del paradosso e dell'assurdo toccano punti nevralgici della discussione, ma anche della dialettica, in termini certamente di dimensione di lingua, linguistica e di problematicità, se vogliamo, filosofica e io direi metafisica vera e propria, e possono toccare anche aspetti in cui il concetto di assurdo, quindi già dare queste definizioni significa definire il taglio che io cercherò di dare, che è quello metafilosofico letterario, ma il rapporto tra l'ombra e le parole, o la ricerca delle ombre nelle parole, o la ricerca delle parole nell'ombra, sta a significare, a mio avviso, una capacità, una possibilità di leggere l'immagine e l'immaginario all'interno di una dimensione, di una visione che non è soltanto onirica prettamente, è fortemente onirica, ma è una dimensione in cui lo spazio e il tempo diventano fondamentali. Noi non possiamo parlare di ombra, non possiamo parlare di parola o di lingua, o le parole o ricerca della parola, se non entriamo in questa visione, che è una visione in cui spazi e tempo si intrecciano, si incrociano e si dichiarano. Noi abitiamo, vedete, costantemente, non la luce, perché potrebbe essere un paradosso e una contrapposizione all'ombra, alle ombre, ma viviamo costantemente dentro la penombra delle parole. Perché dentro la penombra delle parole? Perché in ogni dimensione, che è una dimensione, se vogliamo, semantica, ma anche esistenziale, ci sono elementi in cui il punto nevralgico di tutto diventa il pensiero. È il pensiero che agita l'immaginario, è l'immaginario che crea immagini, è le immagini che ci portano sostanzialmente a riflettere e a meditare sulla contestualizzazione dell'uomo di oggi, all'interno di questa situazione che è una situazione prettamente drammatica, tra senso e non senso. Che cos'è un'ombra? Quali sono le ombre? Io parto da un'esperienza personale, ho cambiato idea sul concetto di ombra di recente, perché? Perché io sono stato riduce di una rottura di un braccio e ho visto l'ombra di questo braccio, ovvero l'immagine di questo omero fratturato. E che cos'è l'immagine del mio omero fratturato in più pezzi? Sono delle ombre di un corpo sostanzialmente che si disarticolano all'interno di una realtà vera e propria che ci dà la capacità, la possibilità di entrare in un concetto forte qual è la presa di coscienza di questa frattura, ma nello stesso tempo ci permette di leggere attraverso queste immagini che noi non riusciamo a catturare, perché non essendo certamente dei lettori di queste immagini e di queste proiezioni che i raggi o le cosiddette volgarmente lastre ci danno, ma ci dà la capacità, la possibilità di leggere le ombre e attraverso le ombre di una frattura e di un braccio si entra all'interno di una dimensione che è materiale, in questo caso specifico, ma questa materialità delle ombre, questa fisicità a volte delle ombre, potrebbero non avere fisicità le ombre, ma in questo caso hanno una loro fisicità, portano ad una lettura, ad un'interpretazione ben precisa qual è il rapporto tra la materialità che è la fisicità dei fatti, a me non piace usare il termine cose, ma lo uso in questo specifico contesto, delle cose con il pensiero, il pensiero che entra nella forza di interpretare queste ombre. Le ombre che ci camminano dentro non sono altro che il viaggio accanto che noi viviamo costantemente nella vita. L'esempio che io ho fatto è un esempio tangibile che mi accompagna da due mesi e questo esempio mi fa capire come queste ombre, immagini, visioni sono all'interno di un processo, che è un processo che tocca la mia civiltà di uomo, la mia civiltà di esistenza, la mia civiltà di essere, nei confronti anche con le altre forme di cultura, con le altre forme di sapere, di conoscenza, ma mi porta anche ad un'altra visione, ad un'altra dimensione che è fatta da due concetti forti, la percezione e l'intuizione. Qual è la diversità tra ombra e luce? La luce noi la vediamo immediatamente, ci penetra, è il chiaro, mentre l'ombra è l'uscire dal bosco metaforico o se vogliamo metafisico per cercare di capire, di comprendere quelle penombre che poi ci portano all'ombra che ha in sé una visione vera e propria in cui il concetto metafisico, se vogliamo, della parola diventa fondamentale. E la parola si spiega attraverso proprio l'ombra e l'ombra si spiega attraverso appunto la parola. È come se noi assistessimo ad un intreccio, ad un incrocio tra solstizio ed equinozio e nella filosofia o meglio nella letteratura queste dimensioni sono parti integranti per capire il rapporto tra la scrittura, il concetto di scrivere, il concetto appunto di linguaggio, il concetto appunto di parola in sé, di lingua. Allora all'interno di questa visione credo che tutta la letteratura, tutta la filosofia sia confrontata poi in fondo con il concetto di ombra. Non dobbiamo andare molto distanti, c'è un libro molto bello, molto significativo che è Elogio dell'ombra di Borges, Elogio dell'ombra nel quale già queste specificazioni, questi dettagli, i dettagli fanno poi una vita e i dettagli sono fatti di profondità, di catturare la percezione delle ombre. L'elogio delle ombre è cercare di capire ciò che noi portiamo dentro, perché ciò che noi portiamo dentro è la luce metaforica, ma è anche la luce che viene attraversata dall'uscita dal bosco dei pensieri, dal bosco mentale che è fatta appunto di ombre e di per ombre. La parola non si distacca, non si distanzia da questo, perché quando noi avvertiamo l'ombra immobile o l'ombra vagante in fondo, è la parola che cerca di specificare, di definire appunto il concetto della forma dell'ombra. E la forma dell'ombra è una forma dovuta anche ad una fisicità all'interno della proiezione stessa di questa dimensione, di questo capire, di questo andare, di questo viaggio. Diceva Pedro Solinas, un grande poeta spagnolo della scuola anche di García Lorca, che si cammina fra ciò che vedi, io cammino fra ciò che vedo. La vita è ciò che tu suoni nella tua testa, nella tua mente, nella tua percezione intellettiva. Bene, la vita è ciò che tu suoni, è tutto ciò che tu percepisci, e questo suono proietta appunto, uso il termine metaforico, proietta in fondo questa dimensione che può diventare attraverso la scrittura, quindi attraverso la parola, può diventare una scrittura, una figura, un percorso, un viaggio che è fatto sì di metafora, ma è fatto profondamente, profondamente di metafisica. La metafisica, cos'è il concetto di metafisica? In fondo anche nell'ombra, anche nel rapporto tra la parola e l'ombra. È lo spazio del tempo, è questo spazio del tempo che ci dà la capacità, la possibilità di essere liberi. La metafisica è la libertà di mettere insieme appunto la fisicità del nostro corpo, ma anche la filosofia che porta in sé il pensiero. Il pensiero è un limite o un non limite, un non limite pensante, riflessivo e meditativo. Quindi quando si dice cammini fra ciò che vedi, può essere fino a un certo punto reale questo aspetto, perché io cammino fra ciò che sento, non solo fra ciò che vedo, ma ciò che vedo e ciò che sento. Allora, porre all'attenzione il concetto dell'ombra e della parola, a mio avviso significa anche inserirsi all'interno di ciò che vedo, ma anche all'interno di ciò che sento. Io ho citato poco fa García Lorca. Bene, García Lorca è una delle sue più belle poesie, dice l'ombra dell'anima mia. Entriamo in un'altra dimensione, che è una dimensione prettamente ontologica, se vogliamo, non religiosa, non teologica, ma è chiaramente forte l'ombra dell'anima mia. Com'è possibile percepire l'ombra dell'anima mia? È possibile percepirla perché all'interno di questo viaggio che noi compiamo, alla ricerca della nostra ombra, c'è un'altra dimensione forte che l'intuizione. Noi viviamo intuitivamente a volte, religiosamente o meno, a qualsiasi religione si possa appartenere, anche se il discorso prenderebbe delle pieghe molto complicate e molto diverse, ma c'è questa visione chiara del vedere, del sentire, del percepire, dell'intuire l'ombra. E nella storia delle civiltà, se vogliamo fare una riflessione anche dal punto di vista antropologico, il concetto di ombra o la collezione delle ombre, perché le ombre sono diverse. La proiezione dell'ombra del nostro corpo è altro rispetto alla proiezione di un oggetto, anche se pone in essere dimensioni che sono dimensioni certamente che ci portano a geolocazione di dove ci troviamo, ma l'ombra è invisibile a volte, dobbiamo percepirla come dicevo all'inizio, ma antropologicamente l'ombra nasce all'interno di un concetto che non è occidentale vero e proprio, ma proviene dalla cultura orientale. Il mondo dell'Oriente, la civiltà dell'Oriente, ha convissuto col concetto di ombra. Ulisse viveva l'ombra e Ulisse non è assolutamente occidentale, come spesse volte viene sottolineato. Ulisse non è occidentale. Ulisse proviene da una cultura che è una cultura quella greca, quella itacese, in cui il rapporto del Mediterraneo e delle ombre, del Mediterraneo che è il meridiano, che è il meridiano di questa linea, che è la linea appunto magrebina, ha vissuto anche il mare, il viaggio come l'ombra. L'ascesa di Ulisse nel regno dei morti, il rapporto con la madre, il suo dialogare con gli dèi e con i miti non sono altro che forme in cui il senso delle ombre si manifestano all'interno di un processo che è un processo archetipico, in cui l'archetipo in sé diventa un vero e proprio modello in cui l'ombra non è più soltanto una parola, ma è il labirinto della parola. Ecco allora la distinzione dell'ombra tra occidente ed oriente. L'ombra nella cultura anche antropologica, nella letteratura antropologica, nella filosofia antropologica, ha una dimensione circolare, ha una dimensione speculare se vogliamo il concetto di ombra e questo modo speculare di concepire l'ombra nasce appunto da una visione di comprensione del concetto di labirinto. Maurizio vive nel labirinto, ha bisogno di uscire dal labirinto, ha bisogno di farsi trascinare da Arianna, ma tutto diventa all'interno dell'immaginario omerico un'ombra. Ma questo concetto di ombra omerico proviene chiaramente da una cultura che è una cultura all'interno del mare mediterraneo, quel mediterraneo che noi abbiamo considerato occidentale, ma che ha le radici profondamente marcate all'interno di un oriente che poi la cultura occidentale, la cultura romana, la cultura romana si impossesserà di questo visione omerico, omerica attraverso le ombre che Virgilio trasporta nel percorso che fa combiere a Dante. Le ombre di Dante in fondo sono le ombre che ha vissuto Enea, sono le ombre di questa, di questo personaggio ovvero Virgilio e Enea che si porta dietro di sé, non la fisicità del padre, la fisicità del figlio dopo, dopo le fiamme di Troia, ma sono le ombre, sono le ombre del padre, sono le ombre del figlio, sono le ombre della moglie abbandonata, abbandonato lungo il viaggio e il viaggio stesso in fondo, non è che un ombreggiare all'interno di una ricerca della luce. Perché la parola vive all'interno dell'ombra o perché si crea un rapporto tra la parola e l'ombreggiare e l'ombra? Perché si ha bisogno in fondo di comunicare oltre se stessi e comunicare oltre se stessi, si comunica in diversi modi, si comunica con la gestualità che fa ombra, la gestualità, si comunica con lo sguardo, con gli occhi, si comunica con la parola, ovvero si comunica con il linguaggio. E allora tutto questo credo che rientri in questa visione problematica in cui può in essere dei concetti forti, può in essere dei concetti ai quali io mi chiamavo all'inizio quando dicevo che l'ombra è un viaggio sempre a campo, come il titolo di un mio libro pubblicato dalla casa editrice Ferrari. Ma l'ombra ha il limite, può avere il limite un'ombra? Beh, nella sua articolazione anche labirintica azigocolata, l'ombra ha i suoi limiti, la luce invece è il riflesso immediato. Pensate alle tre cantiche di Dante, quando ha bisogno di uscire a rivedere le stelle. Cosa significa questa metafora? Ha il bisogno, la necessità di rivedere la luce, ma siamo in un tessuto prettamente letterario. Mentre ci sono dimensioni in cui si osserva, si sostiene che anche un taglio di bosco, cioè un taglio nel buio del bosco, prima della luce ci porta l'ombra. Se io devo arrivare alla luce devo attraversare l'ombra, ma devo attraversarla e per attraversare l'ombra io ho bisogno necessariamente di abitare l'ombra. Ecco il dato preciso, bisogna abitare l'ombra, ma per abitare l'ombra che cosa bisogna fare? Come si abita l'ombra? Si abita abitandosi, perché le ombre esterne, tutte le penombre che noi vediamo attraverso gli oggetti, e qui entreremmo in un campo che è praticamente artistico, cioè la proiezione di un oggetto che crea l'ombra, è prima di tutto un'ombra che noi portiamo dentro la nostra consapevolezza e inconsapevolezza, dentro la nostra coscienza. Anche un ricordo è un'ombra. Kierkegaard sosteneva in fondo che il ricordo non è altro che un'ombra e la memoria è fatta di tante ombre che poi ritornano attraverso i chiaroscuri e ci permettono di capire, di catturare singolarmente sia la gioia, sia il sacrificio, sia il dolore. Sono tre caratteristiche che sono dentro le macchie, cosiddette tra virgolette le macchie, che l'ombra proietta, che l'ombra crea. E la parola cattura, in fondo, questo destino dell'ombra, questo desiderio dell'ombra, dell'ombreggiare e della penombra. La luce è immediata, la luce ha riflessi immediati. L'alba ha la sua luce antelucana che ci prepara alla luce immediata. Pensate alle giornate estive come queste, quando noi ci alziamo alle cinque di mattina e vediamo immediatamente questo fluire di luci, questo fluire di luce, luce naturale in fondo, è questo. Ma da dove viene questa luce naturale? Viene dalla notte che noi abbiamo abbandonato, ma la notte attraversa le ombre e le penombre, che non sono soltanto nel buio della notte, ecco l'altro concetto forte, il buio della notte, bisogna uscire dal buio, come bisogna uscire dal labirinto per ritrovare appunto quel focolare domestico. Ma qui siamo in una dimensione prettamente, ritorno, di concettualizzazione, di dimensione in cui la visione, la visione circolare della vita, ha una sua forza non teologica, come dicevo, ma una forza estetica metafisica. Nella concezione religiosa, soprattutto nella concezione cattolica, non c'è la circolarità, c'è la verticalità e l'orizzonte, quindi l'ombra diventa una verticalità e quindi un orizzonte che ha il suo finito infinito, o meglio l'infinito. L'ombra non ha un infinito, l'ombra non ha mai avuto un infinito, l'ombra ha una sua definizione vera e propria, nella sua dimensione che è una dimensione chiaramente all'interno di un tessuto, che è un tessuto fisico, materiale in sé, perché l'ombra pur non essendo materiale l'ombra, perché è indoccabile l'ombra, come è indoccabile la luce, ma resta chiaramente nel nostro immaginario una dimensione chiaramente fisica, perché noi la vediamo con la nostra percezione della fisicità l'ombra e la letteratura ha assorbito questo aspetto e quando io vi citavo Borges, l'elogio dell'ombra era proprio questo cercare di uscire dal buio, Borges era cieco, quindi non vedeva le ombre, ma non vedeva le luci, ma queste ombre e queste luci erano dentro la sua dimensione che poi veniva trasformata come dimensione prettamente onidica. Ebbene, questa, questa, questa voler circoscrivere questa concettualizzazione, perché noi di concetti parliamo, parliamo di concetti all'interno delle, di una dimensione in cui la luminosità diventa vaga e quando la luminosità diventa vaghi, in termini metaforici, certamente entriamo in un'altra, in un altro aspetto, in un'altra dimensione che è quella delle tenebre, le tenebre, ma il rapporto tra le tenebre e il linguaggio, tra le tenebre e la parola, quale potrebbe essere, qual è il rapporto? La parola è chiaramente non una chiarezza in sé, è una dissolvenza. La parola scritta diventa resistenza, la parola pronunciata diventa dissolvenza. Dissolvenza perché nel momento in cui io sto parlando, questa parola che pronuncio, questa parola che annuncio, questa parola che sottolineo, si dissolve immediatamente, tranne e resta come segno emblematico e palpabile, ma poi sfugge anche in questa palpabilità o impalpabilità a chi mi ascolta, ma ha la sua dissolvenza e la sua dissolvenza crea sostanzialmente una forza in quella volontà dell'immaginario che, come diceva Nietzsche, diventa il dialogo costante con il viandante immaginario che noi percepiamo, che noi viviamo dentro. Friedrich Nietzsche aveva appunto definito questo rapporto tra l'ombra e il viandante, ma in quest'ombra e il viandante, in questo dialogare tra l'ombra e il viandante, in umano troppo umano, nel secondo volume di umano e troppo umano, c'è proprio la capacità di captare nella penombra e nell'ombra il senso del tragico, il senso del dolore, perché attraversare l'ombra significa avere la capacità, la forza di uscire fuori da quella vita che noi abbiamo vissuto e che noi cerchiamo di vivere nel sogno della felicità e entrare in una vita che è surreale, iperreale e reale, ovvero il rapportarci costantemente con una drammaticità del dolore. Il tempo che noi abbiamo vissuto in questi anni è un tempo tragico e il cosiddetto bisogno di leggerezza non è altro che una vagatezza del relativismo. Quindi affrontare la visione della tragicità dell'ombra significa anche cercare di captare, di capire, di vivere un messaggio che è un messaggio profondo in cui, come dicevo prima e come diceva Kierkegaard, ritornare alla visione forte del ricordare, della non dimenticanza piuttosto del ricordare, perché l'ombra è fatta di sogno, è fatto di un viaggio che è un viaggio onirico. Quindi la non dimenticanza o fissare tutto il nostro viaggio nel concetto di memoria, che non è il ricordo, ma che non è neanche il concetto di tempo in termini agostiniano, in termini plotiniani, è forse in fondo scavare in quella caverna di Platone e cercare in uno scavo, cercare in uno scavo della caverna un frammento, frammento in termini proprio veri, veri, di ombra, luce. Ma nella caverna non c'è la luce, nella caverna c'è il semibugno, ci sono le tenebre. Quindi questa lettura, questa interpretazione, che è prettamente, come dicevo, filosofica, entra poi in un'altra dimensione che Vincenzo Cardarelli ha definito le lunghe mani del nostro essere. I ricordi non sono altro che le ombre delle nostre mani, di tutto ciò che noi abbiamo vissuto. Si ritorna a quella visione, a quel verso straordinario di Garzia Lorca, l'ombra dell'anima mia, che vaura, che è vagante, che vive nella sua dimensione, nella sua percezione. Quindi andiamo di nuovo in questa dimensione della percezione e della intuizione dell'ombra, oltre che nella visione dell'ombra. Noi vediamo l'ombra, però dobbiamo percepirla, dobbiamo catturarla, altrimenti ci sembra una macchia, una macchia estesa. L'esempio che facevo all'inizio, cioè io vedo l'ombra, l'immagine, l'immagine di una frattura, di un pezzo del corpo umano dove ci sono soltanto ombre, ma dobbiamo leggerle queste ombre, dobbiamo avere la forza, la capacità di leggere queste ombre. Bene, Borges, o Borges come vogliamo chiamarlo, sosteneva nell'elogio all'ombra, in una sua poesia dedicata alla vecchiaia, Democrito di Abdera si strappò gli occhi per pensare. Pensate, pensate un po', si strappò gli occhi per arrivare al pensiero, ma strappandosi gli occhi, siamo nel caso mitico di Tiresia, senza sguardo, senza occhi, ma soltanto con la percezione del pensiero leggeva la profezia, aveva letto la profezia. Quindi vivere di profezia attraverso appunto gli occhi che non vedono, gli occhi che non cercano, perché non è possibile che gli occhi cercano nel caso di Tiresia, ma è soltanto l'intuizione, la percezione, questo atto che è un atto profondamente metafisico, gli occhi per pensare, gli occhi pensano, ma se gli occhi pensano, come dice appunto Borges, è chiaro che tutto questo nostro dire, questo nostro vivere non è altro che l'ultimo parlare, l'ultimo parlare, l'ultima parola. E qual è l'ultima parola in fondo? È cercare, è cercare oltre la morte una vita altra rispetto a quella che noi abbiamo vissuto, ma la vita altra che noi ci immaginiamo piena di luce, chi se la immagina, io non me la immagino, io vorrei immaginarmela, vorrei pensarmela una vita oltre, ma è l'ultimo gesto della parola, gli occhi che pensano, l'ultimo gesto della parola. E da questo punto di vista credo che la lingua abbia una sua importanza notevole, perché se noi riusciamo a catturare il linguaggio, la lingua o le lingue delle ombre, è chiaro che viviamo una vita diversa, una vita se vogliamo, scusatemi il termine, di trasversare rispetto alla quotidianità del nostro essere. Perché? Perché dobbiamo attraversare la notte. È la notte che non è fatta di ombre, è fatta di buio. La diversità è qui. L'ombra non è buio e il buio non è fatto di ombre, è il buio, è la notte. Ebbene, c'è la notte che semina e sciama come se ci fosse un'altra notte, più buia e notturna, dice Maurice Blanchot. Ebbene, in questa notte ci sono le parole del superamento della fine, ovvero ci sono le parole del non limite. La letteratura e la scrittura riesce a catturare questo pensiero se non dedica il suo pensare, la sua parola, il suo linguaggio, il suo linguaggio alla leggerezza del relativismo. Ci sono, vedete, due film che ho visto recentemente, ho rivisto recentemente in occasione della preparazione di questo nostro incontro, di questa nostra conferenza, che sono storici, che avevo visto molti anni fa, quando ero molto più giovane. Uno è Ombre Rosse, un film western del 39, non vorrei sbagliare. Pensate un po', Ombre Rosse. Bene, questa guerriglia tra gli apaci, tra gli indiani e i nordamericani pongono in essere le ombre, ombre rosse. Ma le ombre rosse sono il sangue, il sangue che scorre, il sangue che scorre lungo le praterie, lungo i cammini di questi uomini indiani dell'America indiana, ma sono anche gli uomini del pensiero forte, ovvero quegli uomini che hanno catturato attraverso la preghiera in termini laici, del mondo sciamanico, il senso appunto del rapporto della fine del crepuscolo, della fine del tramonto, e riuscivano a vedere soltanto il rosso del sangue. Il rosso del sangue non è altro che un'ombra, e la trasformano, quest'ombra, non soltanto nella parola, nel linguaggio e nell'immagine, in questo straordinario film del 39, ma la trasformano sostanzialmente in un'ombra in cui caduto il crepuscolo dietro i monti, rimane appunto un altro tramonto, il rosso del tramonto, che è fatto appunto di ombre. E non si sa l'infinito, non conosciamo l'infinito, si dice nel film, perché le ombre rosse sono il nostro camminamento di un popolo e di una civiltà che ha perso la propria terra. Ed è la propria terra, come gli indiani d'America, hanno perso le radici, hanno perso le identità, hanno perso le appartenenze. Beh, sono tre concetti forti, che appartengono sia al mondo occidentale sia al mondo orientale, chiaramente da questo punto di vista, ma si parla di ombre, e quando si perdono le ombre in una cultura, soprattutto in certe culture, si perde il senso anche del divino, il senso del divino in termini mitici, e quando si perde il senso del divino in termini mitici, si perde per noi che viviamo questo scontro, incontro tra Occidente e Oriente, le nostre radici, che non sono latine, che non sono romane, assolutamente no, ma sono greche. La nostra cultura è greca, non è latina, non è romana. Il mondo latino, il mondo greco, il mondo romano deriva dalla grecità profonda. Senso Omero, il giro non ci sarebbe stato. Non ci sarebbe stato. È Omero che segna le tappe fondamentali attraverso questa grande figura di Ulisse, questo grande viaggio di Ulisse all'interno di un attraversamento che è l'attraversamento chiaramente di tutto il Mediterraneo. Non ci sarebbe stata neppure la figura di San Paolo, pensate un po'. Non ci sarebbe stata neppure la congezione biblica senza l'Odissea. L'Odissea è il punto nevragico di una letteratura, di una filosofia, di un mito che segna gli archetipi delle civiltà, gli archetipi degli uomini, gli archetipi del viaggio. Viaggio reale, ma anche viaggio in cui la fantasia o il mito diventano precursori di ciò che Pavese chiamò il dialogo con Leuco, un grande scrittore. Il maestro del Novecento, Cesare Pavese, che è riuscito a catturare attraverso il dialogo con Leuco gli archetipi di questa grecità profonda che è dentro la nostra consapevolezza, dentro la nostra coscienza. Ebbene, è qui l'Oriente che entra dentro l'Occidente, è qui che le ombre, le ombre di quell'Oriente, di quell'Oriente che noi consideriamo un Oriente che va dalla Mesopotamia al mondo islamico, al mondo persiano, resti dentro l'Oriente. E no. Quell'Oriente è un Oriente di ombre, pensate ai dervisci danzanti che danzano nel cosiddetto ballo tondo che poi troviamo in diverse civiltà, compresa la civiltà sarda, in quel ballo tondo, quel ballo tondo in cui i dervisci danzanti, come ben ha raccontato Franco Battiato, che cosa fanno i dervisci danzanti? Danzano, ballano, suonano, al suono delle voci, degli ecchi della notte? No, guardano il cielo, guardano le stelle. Ma il cielo, le stelle cadono intorno a questa circolarità della danza, intorno a questo cerchio danzante e quindi fanno ombra e i dervisci danzanti danzano intorno al cerchio, come facevano gli indiani d'America. Gli indiani d'America nelle loro danze di pace, di guerra, di armonia e disarmonia, prima di ogni battaglia, che cosa facevano? Facevano la cosiddetta, tra virgoletta, festa della danza, ma nella festa della danza aspettavano il segno della luna che cadeva al centro del cerchio e questo centro del cerchio disegnava la visione dell'ombra. Noi siamo entrati in una panacea letale, dove non riusciamo a vedere gli archetipi che hanno accompagnato le civiltà. Noi riusciamo a leggere le civiltà, perché siamo così infarciti di quotidianità, siamo così infarciti di leggerezza, siamo così infarciti di presente, senza cercare di capire il senso non del passato, perché non esiste il passato, perché esiste il tempo della memoria. Beh, siamo così miseri a volte, noi uomini, senza cercare di catturare ciò che le civiltà ci hanno lasciato, anche in termini scientifici dal punto di vista antropologico. La scienza può tutto? La scienza non può tutto. La scienza a volte è un inganno? La scienza a volte è una ricerca. Ebbene, credo che anche da questo punto di vista l'antropologia, la letteratura, le scienze, la filosofia hanno il loro senso dal punto di vista linguistico. E le ombre, queste visioni troppo corte del nostro immaginario o troppo lunghe della nostra memoria, per ritornare a Carderelli, non fanno altro che darci gli occhi. Ci danno gli occhi. Ma come Tiresia? Come Omero? Gli occhi sono ciechi e quindi dobbiamo catturare attraverso la cosiddetta teoria dell'anima, che io definisco metafisica dell'anima, ciò che Maria Zambrano definisce appunto il tempo della memoria, del proprio esistere, cercando di uscire dal bosco, attraverso il chiaro del bosco stesso, ovvero intravedendo nel bosco la chiarezza, la lucentezza, il barlume di una concezione che non ci può e non ci deve far sentire estranei, ovvero stranieri a noi stessi. E allora per fare questo o per vivere questa dimensione non possiamo che attraversare due aspetti o due immaginari, due emisferi che sono il crepuscolo, vivere nel crepuscolo, abitare il crepuscolo, capire il crepuscolo, il crepuscolo degli dèi in fondo sarebbe, perché noi viviamo in questa ovattata dimensione in cui se non ci sono gli dèi c'è Dio, se non c'è Dio ci sono gli dèi. In fondo il timore o il tremore ci raggiungono fino a un certo punto, quando ci toccano personalmente come uomini nel nostro pensiero, nella nostra fisicità, altrimenti non pensiamo al crepuscolo, come non pensiamo alla notte come metafora della morte. E allora per fare questo credo che abbiamo bisogno di una profondità in cui uscire dall'ombra, ma non per ritrovare la luce, per ritrovare la penombra che noi viviamo, che noi abitiamo, dobbiamo scendere nella profondità del nostro esistere, nella profondità del nostro essere. E bisogna parlare, bisogna usare il linguaggio, parlare con Dio, parlare di Dio. E lo dico non dal punto di vista cristiano, lo dico dal punto di vista laico, parlare con Dio, con un assoluto dentro il quale noi riusciamo a confrontarci per sconfiggere le nostre solitudini, per sconfiggere la nostra inquieta solitudine dell'essere e del vivere. In fondo, quando si parla del crepuscolo, si parla anche di questa confessione della notte. Noi viviamo la confessione della notte non nella notte, ma la viviamo nel giorno, la confessione della notte. E quanto viviamo questa confessione della notte, ci troviamo ai confini del giorno. E i confini del giorno è la tremenda paura di non esistere più, di non esistere o di esistere a metà. Il timore, in fondo, è quello appunto di non saper penetrare le ombre, è quello di cercare costantemente la luce, di cercare costantemente la luce. Possiamo arrivarci alla luce, possiamo toccare la luce, toccare metafora, toccare la luce. Com'è possibile toccare la luce? Com'è possibile toccare il vento, anche se il vento ci attraversa le dita, i capelli? Ci attraversa, ma possiamo afferrarlo il vento? Non lo possiamo afferrare il vento, come non possiamo afferrare un'ombra che fugge e sfugge. E far fuggire un'ombra significa creare anche la possibilità di uno spazio, che è l'estetica dello spazio. Ecco allora, come entriamo in una dimensione che è, come dicevo, filosofica, ma molto letteraria. In questa letteratura in cui i pensieri sono le ombre delle nostre sensazioni, i pensieri non sono altro che le ombre delle nostre sensazioni, ha la lezione di Friedrich Nietzsche potente e forte, come quella di Kierkegaard che ci ha insegnato che il ricordo è un'ombra. Pensate, il ricordo è un'ombra. C'è un libro di uno scrittore giapponese dal titolo Wangeale d'Erba, che io consiglio, è un libro molto bello. Lo scrittore è Sozeiki, morto a 49 anni nel 1916. L'incipit del suo romanzo si trova nelle librerie, ordinandolo, dice «Salivo per un sentiero di montagna e riflettevo se la ragione ha un'ombra o se l'ombra può essere una ragione». Ecco, entriamo in un altro concetto, che è quello del concetto di ragione, il concetto di ragione che ha la sua profondità all'interno appunto dell'ombra. E dice ancora, io cerco di creare o di cercare il luogo illuminato dal sole, perché il luogo illuminato dal sole viene sempre raggiunto dall'ombra. Perché questo? E dirà ancora Sozeiki, scrittore giapponese, «L'ombra del bambù spazza la scala, ma immobile rimane la polvere». Ecco, se l'ombra del bambù spazza la scala e potrebbe farci sembrare che la scala si sia illuminata attraverso i riflessi del bambù, che cosa ci rimane in fondo? La polvere. E quindi dobbiamo fare i conti con la polvere. Dobbiamo fare i conti con la polvere. E la polvere che cos'è metaforicamente? Non è altro che una concettualizzazione tra lo sguardo e la parola, tra la parola e lo sguardo. Ma le parole sono dissolvenze, dicevo, no? Le parole sono questa grande dissolvenza alla quale fa riferimento anche Pedro Calderon della Barca. Ma l'ombra, cediamo verso la conclusione, ma l'ombra potrebbe anche essere un lampo, la metafora del lampo. Bene, in letteratura come in filosofia, io non faccio tanto le distinzioni fra questi oggi, in un contesto come il nostro, in un contesto che dobbiamo approfondire e cercare di entrare nella profondità della parola, del linguaggio. Possiamo fare un confronto, una comparazione tra il lampo e l'ombra. Il lampo e l'ombra. L'ombra è ferma, statica? Non è assolutamente vero. L'ombra cambia, come cambia la luce, appunto come cambia il sole, dal punto di vista fisico, fisiologico, dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista percettivo, c'è un'ombra che vive sempre dentro di noi, e quella non cambia. E quell'ombra può diventare il sentimento dell'ironico, il sentimento del tragico, è certamente il senso di un ritorno, o il senso di un antico ritorno che ci riporta a quella memoria che noi abbiamo vissuto. E si presenta questa antica memoria che noi abbiamo vissuto come il senso e la concezione di un tempo che non c'è più. non in termini pustiani soltanto, ma in termini chiaramente etighieriani. Il tempo è l'essere. Ma l'ombra, nella parola, non si interpone, non si contrappone forse, contrappone, giusto, il termine che volevo trovare, esatto, al concetto di tempo e al concetto di essere. Non è questo forse il dato fondamentale che noi viviamo, e le ombre ci accompagnano. Le ombre non ci lasciano. Le ombre vivono dentro di noi, come le ombre che ha vissuto Ponzio Pilato. Pilato, che è stato costretto a condannare Cristo, si è portato fino alla fine l'ombra di questa croce, l'ombra di Cristo, pur dicendo di aver dimenticato tutto. Ma è un'ombra apocalittica, è l'assurdo, è l'assurdo che vive dentro l'uomo, che vive dentro il concetto, appunto di tragico. E il concetto di ombra ha la sua visione di tragicità, ma anche di superamento dell'ombra stessa. Bene, ci sono due scrittori, due filosofi, che hanno caratterizzato il nostro novecento, e quella letteratura cosiddetta profonda, cosiddetta, vogliamo definirla, letteratura pesante. e mi riferisco a Nietzsche, che ho citato più volte, in cui per lui l'ombra è il viandante, è Zaratustra, è Zaratustra, è questo personaggio in fondo che ha la saggezza del mistero, non della profezia, ha la saggezza del mistero in sé, ma il mistero è costantemente, è costantemente dentro il viaggio esistenziale. E poi c'è Dostoevsky, per il quale l'ombra diventa il passaggio sublimare per diventare la salvezza. Noi ci troviamo di fronte, però, a due filosofi, uno non credente e l'altro credente, o entrambi credenti, forse, in diversi modi, in diverse articolazioni del limite del pensiero. Allora, se è questo il dato concreto, il dato sostanziale, il dato, appunto, ritorniamo al discorso, il dato metafisico. Sono l'ombra, non sembra vero, ma è così. Sono l'ombra che farai, sognami da lì, il mio cuore è lì. Questo è un verso di una canzone di Viaggio Antonacci. Sono l'ombra che farai, sognami da lì, il mio cuore è lì. Ebbene, e se, io ho citato anche in Viaggio Antonacci, vuol dire che anche dentro la nostra modernità, la nostra contemporaneità, si avverte la forza, si avverte la possibilità di dialogare con l'ombra, si avverte la capacità forte che dentro l'uomo di oggi, quello non corrotto, quello non corruttibile, l'uomo che pensa, l'uomo che ha lo sguardo nel pensiero e che è pensiero, l'uomo che ha una sua dimensione profondamente radicata all'interno appunto di una discreta ricerca della luce. E questa discreta ricerca della luce non è altro che un abbaiare del cane quando vede un'ombra, direbbe Cioranne. e in questo abbaiare di un cane che vede l'ombra e la insegue, la insegue, l'ombra viene inseguita da un cane perché vuole cercare la ragione, vuole cercare la conoscenza, vuole cercare la capacità, la possibilità che nel reale ci sia una luce, una forza, una determinazione fatta di immaginario, fatta di consapevolezza ma fatta di parole. Io ho bisogno di cercare la mia ombra per misurare le parole, per misurare la parola. E questo rapporto tra il tempo, lo spazio e l'essere è possibile comunicarlo soltanto attraverso il linguaggio, attraverso la parola, attraverso questo mezzo che non è un mezzo di comunicazione in sé, è un mezzo di percezione. Ritorniamo ai due effetti, il limite, percezione e intuizione. Appunto, in questo modello in cui le parole anche derivate diventano parole assunte, parole assunte attraverso appunto la metafisica del viaggio accanto. Ripeto, questo concetto già in incipit del mio discorso, l'ombra è dentro di noi ma è sempre accanto perché è un viaggio. Dobbiamo avere la capacità di leggerla l'ombra, dobbiamo avere la forza di leggere questa ombra che ci cattura nella profondità dell'anima. Io voglio leggervi appunto in conclusione due brani, uno di Cassia Lorca che vi ho citato poc'anzi, ucciso nel 36, che lo dice l'ombra dell'anima mia, ovvero l'ombra della mia anima è una fuga in un tramonto d'alfabeti, nebbia di libri e di parole. Vedete come siamo nel pieno del nostro argomentare, l'ombra dell'anima mia è una fuga in un tramonto d'alfabeti, ovvero in un'ombra di alfabeti, questo tramonto che fa ombra sugli alfabeti e crea nei libri la nebbia, nebbia di libri e nelle parole, l'ombra dell'anima mia. Sono giunto la linea dove cessa la nostalgia e la goccia di pianto si trasforma in alabastro di spirito. Entriamo proprio nella testimonianza della spiritualità in quella dimensione esistenziale carcheggerdiana in cui la malattia mortale nasce appunto dal non aver catturato, concepito o compreso il concetto di ombra che noi importiamo dentro di noi. La conocchia del dolore sta finendo. Noi viviamo dentro il dolore che è memoria, presente e passato, ma resta la ragione e la sostanza la ragione. Il concetto di ragione che ci fa catturare che cosa si nasconde dietro la polvere, parlavamo della polvere, la polvere dell'ombra che è fatta di sguardi, la polvere dell'ombra che è fatta di sguardi, non soltanto di tatto, di toccamento è fatta di sguardo in un fosco labirinto di stelle affumicate si ritorna al concetto di ombra, di fumo, affumicate, queste ombre, pensate quando fumiamo, io fumo il sigaro e mi diverto a volte a vedere queste nuvolette che si agitano nella stanza, ma sono ombre, non nuvole, perché c'è la differenza tra le nuvole e le ombre. Io voglio considerarle ombre, ebbene, cerco di catturarle, queste ombre del fumo del sigaro, non riesco, perché non riesco? Mi sfuggono dalle dita queste ombre, queste nuvole e mi riempiono di illusione, perché penso di averle catturate, ma vanno via, vanno via, diventano appunto illusione, oppure diventano allucinazione, oppure diventano forza di uno sguardo in cui le parole si sacrificano, si sacrificano attraverso l'immagine, immaginaria. Bene, io ho citato, per chiudere realmente, ho citato un film Ombre Rosse del 1939. Bene, c'è un altro film che mi ha sempre affascinato, mi ha sempre catturato e credo che sia uno dei film più belli, di Marcello Mastroianni e di Romiginaizer, Fantasma d'amore. Vi consiglio di vederlo, questo film, perché questa coppia di amanti, questa coppia di innamorati, lei a un certo punto scompare, muore, ma ritorna costantemente come un fantasma, come un fantasma dopo alcuni anni. Lui è sposato, infelicemente sposato e il suo pensiero è sempre a questa donna affascinante, misteriosa, segreta in fondo e ritorna, ritorna come ombra, come fantasma, come ombra, come fantasma e si incontrano l'ombra e il fantasma e questa ombra non crea un senso di persecuzione nei confronti del personaggio Mastroianni nel film. È un film dell'81, mi pare, ma diventa la figura centrale e diventa la figura centrale non nella sua reale fisicità, ma diventa la figura centrale nell'essere ombra, nell'essere fantasma, ma com'è per dire che quando una storia si vive, quando un'ombra è stata fisicità e si è trasformata poi in un fantasma in questo caso specifico, continua ad essere punto di riferimento, punto di contatto, punto di essenza, punto di luce, un vero e proprio punto di luce. per restare a questo discorso e per restare all'affermazione di una cultura in cui il mondo orientale prevale sul concetto di ombra, pensate al concetto di vero. Il vero che cos'è in fondo? È un mascheramento, è una maschera, ma io direi di no, è un'ombra, è un'ombra che cerca una trasparenza, questa trasparenza che è sostanzialmente la forza spirituale di una civiltà, la forza spirituale di una cultura. Io non voglio giustificare nulla, non voglio tendenzialmente esprimere alcun giudizio su questi aspetti, ma il vero diventa un'ombra e l'ombra del velo o il velo che ha la sua fisicità ma diventa trasparente se noi entriamo nella metafora dell'ombra viene ad essere considerato un rapporto, un rapporto forte, nuovamente metafisico con i linguaggi, le parole che diventano linguaggi e linguaggi che diventano civiltà, che diventano cultura, che diventano identità. Noi non possiamo attraversarle le ombre come non possiamo attraversare la parola o le parole. Noi dobbiamo abitarle le ombre, dobbiamo abitare la parola. Si dice che la letteratura diventa una confezione come genere letterario, ovvero il tutto in parola e in ombra diventa una confezione come genere letterario. Io so del parere che le ombre sono una confezione come genere esistenziale e nel caso specifico una confezione come genere metafisico vero e proprio. La metafisicità che nasce all'interno di questa dimensione o all'interno di questo mio dire trova appunto nel concetto forte dell'ombra e del viandante viciano il punto di dialogo necessario per capire anche le culture che noi abbiamo attraversato le culture che ci attraversano e che noi abbiamo l'obbligo per cercare di capirle queste culture di abitarle l'ombra è parte integrante di un'esistenza e di un nostro essere ma per capirci per comprendere o per comprenderci come possiamo essere distanti da tutto questo dobbiamo abitarci fino in fondo quindi dobbiamo non attraversare ma abitare l'ombra che è in noi e abitare l'ombra che le stelle emanano al di là delle luci al di là della luce dentro o fuori dal mare tra la terra e il mare la luna che cade o che scivola o che riflette riflette o fa soltanto l'ombra o crea soltanto l'ombra della luna noi vediamo la luna in lontananza questa grande luna rossa gialla la bianca a volte ma dove si deposita la luna nell'ombreggiare e in questo ombreggiare c'è la percezione del nostro esistere la percezione del nostro essere e come trasmettiamo tutto questo come possiamo trasmettere attraverso l'arte attraverso la pittura o possiamo trasmettere attraverso le diverse arti o forme antropologiche nella loro ricerca e nella loro spiegazione ma resta vita attraverso la poesia attraverso la poetica ovvero attraverso la parola e la poesia è un immaginario in cui la parola diventa punto di contatto e punto di riferimento esistenziale se vogliamo dentro il nostro essere e dentro il nostro esistere grazie grazie